cari amici di regina della pace la pace la gioia dei santi sia con tutti voi oggi la chiesa celebra la memoria del santo martire benigno datori siamo nel quarto secolo sotto la cruenta persecuzione di massimiano e diocleziano benigno il nome stesso lo dice è un uomo molto buono che compie opere buone e rette è un prete ordinato nel luogo di tori e nei momenti più forti della persecuzione dei cristiani seppe offrire il vangelo la parola di dio affrontò la tortura e la morte in difesa della verità e fu martirizzato in mano ai carnefici per testimoniare il dio buono e grande il suo corpo fu raccolto da mani pietose e venne sepolto lungo la strada che da tori conduceva lungo vicus martis una località che ancora oggi viene chiamata san benigno i resti di san benigno sono collocati nella chiesa di san silvestro a tori sull'altare maggiore racchiusi in un'urna d'argento bene carissimi per oggi ci fermiamo qui pace gioia a tutti voi